Samsung Bespoke Jet è la nuova scopa ricaricabile con una caratteristica unica. Si svuota da sola grazie alla CleanStation integrata. Un benefit rivoluzionario per i consumatori che non devono più svuotare manualmente il serbatoio ed evitano il contatto con la polvere in ogni fase del processo. Una volta terminate le pulizie basta posizionare Bespoke Jet sulla sua base e premere un tasto. CleanStation, l'esclusivo sistema Samsung per svuotare automaticamente il serbatoio della scopa, provvederà ad aspirare lo sporco lasciando il serbatoio pulito e subito pronto per un nuovo utilizzo. Un sistema ingegnoso e utile perché da una parte risparmia l'utente il contatto con lo sporco e dall'altra riduce di 400 volte la dispersione di impurità nell'ambiente quando si svuota il serbatoio della scopa. Avere il serbatoio pulito aiuta anche nella manutenzione dei filtri del serbatoio stesso. Samsung Bespoke Jet unisce performance e maneggevolezza a un design elegante e compatto. È realizzata con materiale e finiture premium e la CleanStation All-in-One svuota, fa da supporto e ricarica automaticamente la scopa. Samsung Bespoke Jet è dotata di un sistema di filtraggio multiciclonico a 5 livelli che trattiene fino al 99,999% di polvere e allergeni come polline, acari e pelo animale restituendo aria pulita. Un risultato importante per chi soffre di allergie. Ma non è finita qui perché Samsung Bespoke Jet ha altre carte vincenti nel suo mazzo. Un design ergonomico e ultraleggero appena 2,5 kg, l'elevata forza aspirante grazie al motore digital inverter da 210 W e un'autonomia fino a 2 ore grazie alla doppia batteria a lunga durata in dotazione. Non lascerai più le pulizie a metà. Completano l'offerta il display digitale LCD che mostra le informazioni su forza aspirante, autonomia residua ed eventuali problematiche, il tubo telescopico regolabile su tre livelli e la miglior dotazione di spazzole e accessori oggi disponibile sul mercato. Qualche esempio? La spazzola Jet Dual è perfetta su ogni superficie ed efficace anche sui tappeti, mentre la spazzola Slim Action è sottile e ruota di 180 gradi per aspirare anche la polvere più fine negli spazi più stretti. Infine, il pratico porta accessori consente di tenere tutto in ordine, trasportare comodamente gli accessori da una stanza all'altra e a una seconda postazione di ricarica della batteria per avere sempre la scopa pronta all'uso. Samsung Bespoke Jet, l'unica scopa ricaricabile che si svuota da sola con un gesto.